Se non avete ancora letto un libro di Stefano Mancuso, fatelo, vi prego! Oggi vi suggerisco questo, La pianta del mondo di Stefano Mancuso. Vi suggerisco questo libro in particolare di Stefano Mancuso perché è un po' un modo di entrare nella sua mentalità che trovo estremamente affascinante. Ma i libri di Stefano Mancuso vanno letti tutti. Io ad esempio ho letto questo e mi ha affascinato tantissimo, qui ho scoperto ad esempio che le piante hanno gli occhi. Ma tornando a La pianta del mondo di Stefano Mancuso, è un libro un po' particolare, nel senso che è diviso in una serie di capitoli e per ciascun capitolo racconta la storia di una pianta o un tipo di piante. Stefano Mancuso scrive divinamente, quindi non è solo un ottimo ricercatore ma è un fantastico divulgatore. È un libro che ha un misto di narrativa e divulgazione scientifica, in particolar modo uno dei capitoli più spassosi di questo libro è La buccia di banana. È dedicato alla scivolosità della buccia di banana con una serie di racconti del passato pazzeschi che ovviamente non vi spoilero. Ma non solo, parla anche delle piante che sono state sulla luna o meglio, dei semi che sono stati sulla luna e poi sono stati piantati. Parla anche di quanto le piante possono aiutare nel risolvere dei crimini. La parte che più interessa a me in questa rubrica dedicata alla sostenibilità è quella legata soprattutto alle città, a come dovrebbero essere le città del futuro per riuscire a sventare la sesta estinzione di massa. Il senso centrale di tutti i libri di Mancuso è un po' quello, che ripete anche in questo libro, è come è possibile che lo 0,3% della massa di questo pianeta, cioè gli esseri umani, siano così invadenti e così importanti, così autocentrati rispetto all'85% della massa del pianeta che è costituita da piante. Vi consiglio a Mancuso la lettura di questo libro in particolare, ma di tutti i suoi libri, perché veramente ci fa capire quanto l'85% della massa presente su questa terra ha veramente tantissimo da insegnarci e ci permette di cambiare mentalità da un mondo fatto di competizione a un mondo fatto di collaborazione e di comunicazione di tipo diverso. I libri di Mancuso sono in questo senso veramente illuminanti e vi auguro di poterli leggere tutti.